Rudi De Sandre è professore di lettere e ha tradotto il privilegio ducale dal latino all'italiano e ha scoperto una cosa interessante a San Francesco della Vigna dove attualmente è in corso la bonifica dell'area gasometri di Venezia. Allora buongiorno nella sezione finale del privilegio ducale sezione di siccome i veneziani avevano in cadore svariati depositi di legnami e di materiali anche i cadorini volevano a loro volta la reciprocità cioè un deposito di legnami a Venezia anche perché i mercanti di barbaria oggi delle tole non concedevano loro di sostare presso le rive. E nel testo noi possiamo vedere che hanno già pensato al luogo adatto. E qui in che punto? Eccolo qua, sezione D, siamo verso la fine del documento e i cadorini hanno pensato che a Francesco della Vigna si potesse costruire il porto, il deposito adatto per il loro scopo. E qui in che punto? Grazie a tutti.